La ricerca presentata oggi a Ca' Foscari dimostra il grande interesse delle imprese venete per la responsabilità sociale. Oggi è importante che questo investimento che le imprese fanno venga certificato e i consumatori sappiano quali sono le imprese che si muovono in modo coerente e corretto nei confronti dell'ambiente, della società, dei dipendenti e dei fornitori. Credo che la creazione a livello regionale da parte della regione di un marchio di certificazione di qualità in termini di responsabilità sociale aiuterebbe queste imprese.